La Corte d'Assise d'Appello, presidente Bruno Sagone, all'Atere d'Aria Orlando, ha confermato la condanna all'ergastolo per Domenico Virga, ritenuto elemento di spicco del mandamento mafioso di San Mauro Castelverde Gangi e accusato di essere tra i mandanti dell'omicidio di Francesco Costanza, imprenditore di Tusa, ucciso il 29 settembre 2001 nella strada tra San Fratello ed Acquedolci. Un delitto è rimasto per vent'anni, un call case. Il sostituto procuratore generale Maurizio Salamone aveva chiesto la conferma integrale della condanna di primo grado, opponendosi alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale avanzata dal difensore dell'imputato, avvocato Salvatore Silvestro, al fine di sentire nuovamente il pentito Nino Giuffre, detto Manuzza. Determinanti infatti nel processo sarebbero state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Nino Giuffre, appunto, braccio destro di Bernardo Provenzano, che per primo parlò del delitto anni fa, e di Carmelo Barbagiovanni, del clan dei Batanesi di Tortorici, che recentemente si è autoaccusato di aver materialmente partecipato al delitto, insieme a Sergio Costanzo, ucciso poi nel 2010 a colpi di fucile nelle campagne di centuri penellennese. Barbagiovanni per questo omicidio è stato condannato a otto anni di reclusione in appello. La vittima, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe gravitato negli ambienti della criminalità organizzata di Mistretta e la sua condanna a morte sarebbe stata decisa perché avrebbe chiesto il pizzo ad alcune imprese che lavoravano al confine tra la provincia di Palermo e Messina, che però erano già state protette da Cosa Nostra Palermitana e avrebbero protestato per la richiesta. Costanza, mentre si trovava in contrada Cartolari, fu prima colpito da alcuni colpi di pistola, una calibro 7,65, e poi finito a colpi di pietra in testa. Virga, invece, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda. I giudici hanno deciso di non procedere alla riapertura del dibattimento e dopo diverse ore di Camera di Consiglio, nella tarda serata di ieri, hanno emesso la sentenza che conferma quanto deciso in primo grado. I difensori di Virga, gli avvocati Salvatore Silvestro di Messina, Deborah Speciale di Palermo e il professore Valerio Vianello di Roma hanno evidenziato criticità in punto di fatto e di diritto che contraddistinguono le chiamate in corretà operate dai collaboratori di giustizia. Per tali ragioni, hanno detto in una nota, confidiamo nel successivo giudizio di legittimità. Grazie.